Sono due famosi musicisti inglesi e la loro bebe le vittime dell'incidente aerosuccesso domenica al passo del Sempione. Omicidio di Borgo Ticino, la difesa di Alberto Pastore valuta la nomina di un perito che assista all'autopsia sul corpo di Johan. Visto il successo il comune riproporrà anche in autunno e in inverno il progetto Arona Lake Shopping. Continuano gli eventi del ricco cartellone di San Vito 2019, il tutto in attesa dello spettacolo pirotecnico di domenica. Finanziamento di fondazione Caripro, ampliamento della scuola di belle arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore. La partita a Gozzano-Como domenica prossima si giocherà al Piola di Vercelli, manca l'ok della federazione. Ben ritrovati dalla redazione di Vicia Notizia questa edizione del nostro telegiornale. In apertura ritorniamo su quanto successo al passo del Sempione sono state identificate le vittime dell'incidente aereo successo nel passato fine settimana. Si tratta di una coppia inglese, musicisti di fama internazionale. Erano partiti da Londra venerdì e avrebbero dovuto raggiungere Milano domenica mattina. Sono il produttore musicale Jonathan Goldstein e la moglie Hannah e la piccola Saskia. Le vittime dell'incidente aereo avvenuto domenica mattina sul passo del Sempione. La coppia era molto nota a livello internazionale, nomi importanti nella panorama musicale. Per dare un'idea basta dire che di Jonathan Goldstein erano le musiche di Cape Fear di Martin Scorsese. Hannah, la moglie, era sassofonista molto apprezzata nell'orchestra della BBC. Tutti insieme erano partiti dall'erodromo La Blecharette di Lausanne attorno alle 9 di domenica mattina. Alle 10.30 il Piper PA 29 volava sulle montagne vallesane, quasi al confine con l'Ossola, quando è avvenuto l'incidente. Un boato ha squarciato la tranquilla mattinata fra i boschi della montagna svizzera. La famigliola era diretta in Italia, a Milano. Inutili quanto tempestivi soccorsi. L'aereo avvolto dalle fiamme non ha lasciato scampo ai tre occupanti. Erano partiti il giorno prima da Londra, poi una sosta in Francia, scalo in Svizzera, diretti poi in Italia. Sulla loro pagina Facebook era descritto il viaggio all'altezza dell'ospizio, sulla cima del passo del Sempione. A quota 2000 metri si sono infranti i loro sogni e le loro speranze. L'autorità investigativa della Sicurezza Federale Elbetica ha aperto un'inchiesta se deve accertare cosa abbia causato il drammatico incidente. E ora ritorniamo sull'omicidio di Comignago. Domani sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Ioan Leonardi. La difesa di Alberto Pastore sta valutando se affiancare un perito di parte. Intanto il giovane omicida sarà risentito nei prossimi giorni dagli inquirenti. Ho ucciso il mio amico in un raptus. Sarà sentito nuovamente nei prossimi giorni Alberto Pastore in carcere per l'omicidio dell'amico Ioan Leonardi. Domani mattina è in programma l'autopsia sul corpo della vittima. Intanto gli avvocati difensori di Pastore, Paola Lorenzini e Lorena Fusè, stanno valutando la nomina di un proprio perito che partecipi all'esame. Ieri si è tenuto l'interrogatorio di garanzia. La situazione è molto delicata, spiegano Lorenzini e Fusè. Ha risposto a tutte le domande, ha spiegato di essere stato colto da un raptus e si è letto disponibile a chiarire tutti i punti ancora da approfondire. Nei prossimi giorni quindi Pastore tornerà davanti al magistrato. L'ipotesi del raptus sarebbe quindi in contrasto con l'aggravante della premeditazione del delitto che la procura starebbe valutando a carico del giovane. Nei giorni scorsi è anche trapelata la notizia di una possibile intenzione di Pastore di togliersi la vita, motivo per cui viene sorvegliato a vista. Non entriamo nei particolari, replicano gli avvocati, ma sicuramente è molto provato. E intanto, dopo la confessione dell'assassino pubblicata su Facebook e Instagram, sui social continua una sorta di assurdo e indecoroso processo parallelo. Con un lungo post, la ex fidanzata del giovane in carcere ha chiesto di essere lasciata in pace, denunciando di essere stata oggetto di insulti e di essere stata accusata di essere in qualche modo colpevole di quanto avvenuto. La vera storia, scrive, la sappiamo solo noi, le forze dell'ordine alle quali ci siamo rivolti. E conclude, ve lo chiedo con tutta me stessa, è una situazione che non auguro a nessuno. Se avete almeno un minimo di rispetto verso anche solo uno di noi, vi prego, lasciateci in pace, come non comprenderla. A Verbagna la polizia ha denunciato un cittadino cinese perché era alla guida in stato di ebbrezza e con patente falsa. Non solo era ubriaco alla guida, ma aveva anche la patente falsa il 31enne cinese controllato dalla volante della polizia a Verbagna. Il giovane, residente a Milano, aveva un forte alito di vino e ha insospettito i poliziotti. Sottoposto a etilometro, è risultato positivo con un tasso di 0,78 grammi per litro. Il passeggero dell'auto, un cinquantenne, anche lui cinese, residente in provincia, nonostante la richiesta, non mostrava il permesso di soggiorno. Dai controlli approfonditi svolti dagli agenti, è emerso che la patente del conducente dell'auto era completamente falsa. Per questo è stato denunciato, oltre che per la guida in stato di ebbrezza, anche per uso di atto falso. Inoltre, il passeggero, anche se regolare, è stato denunciato ai sensi del testo unico sull'immigrazione perché non aveva con sé il permesso di soggiorno. Omeniese, denunciato per violazione di domicilio, il 21enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso da una pattuglia della Polizia di Stato martedì notte all'interno dell'area della Cittadella del Gusto. L'intervento massiccio del commissariato, con una volante e la squadra anticrimine, allertati dal personale della Cittadella del Gusto, ha consentito di bloccare il giovane. Al vaglio degli investigatori, se denunciare il giovane è anche per furto aggravato, visto che in un carrello della spesa sono stati trovati generi alimentari e superalcolici, con ogni probabilità depositati dall'omegnese. Il comune di Domodossola non ha dato incarico a nessuna società di vendere contratti e spazi pubblicitari per suo conto. La segnalazione arriva dal comando della Polizia Municipale Cittadina. Una precisazione doverosa dopo le diverse segnalazioni giunte da alcuni commercianti al centralino della Polizia Locale. Gli esercenti hanno denunciato di essere stati contattati telefonicamente da sedicenti incaricati del comune per prenotare la visita di un addetto per la firma di contratti e spazi pubblicitari. Ad Arona è tempo di bilanci per il progetto Arona Lake Shopping. I dati in possesso del comune sono incoraggianti, tanto che il sindaco Gusmeroli ha già annunciato che l'esperienza sarà ripetuta anche in futuro. Arona Lake Shopping è un progetto da ripetere anche durante l'autunno e l'inverno. Ne è convinta l'amministrazione comunale sulla scorta del successo incassato dall'iniziativa. Alla sua prima edizione, nell'estate 2019, partito come una scommessa allo scorso 5 luglio, il progetto ha riscosso entusiasmo fra i commercianti, successo fra i visitatori di Arona, soddisfazione fra gli amministratori comunali, tanto che il sindaco Alberto Gusmeroli non ha dubbi. Dice abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo sfidato con successo la concorrenza dei centri commerciali e dello shopping online. Situazioni che da tempo depauperano la vita dei centri delle nostre città. Il mix è stato quello vincente. Accanto ai negozi aperti nelle ore serali sono stati affiancati momenti di indiscusso valore artistico. Si va dai concerti al cabaret, dal teatro ai mercatini. Momenti che hanno avuto grande visibilità anche a livello mediatico e questo ha certamente contribuito a far conoscere la nostra città, ma anche tutto il Lago Maggiore, spiega ancora il primo cittadino aronese. Nel ringraziare quanti a vario titolo hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa Gusmeroli Rilancia. Abbiamo deciso di proseguire, non ci fermiamo, andremo avanti anche nei mesi autunnali e invernali, arricchendo ulteriormente il calendario degli eventi con mercatini in piazza San Graziano, artisti di strada, altre iniziative di richiamo per portare avanti il progetto Arona Lake Shopping, che, dice ancora il sindaco, ha l'ambizione di proporsi come esempio per altre città e tutelare il commercio, l'artigianato, con i negozi liberi nella gestione delle aperture esterali e ampliare il periodo di flusso turistico anche a mesi dell'anno meno affollati. Sono state delle urla questa mattina ad attirare l'attenzione dei passanti che hanno chiamato i carabinieri a pallanza nella zona di Vicolo Sassello. I militari della stazione di Verbagna si sono precipitati per capire di cosa si trattasse. Hanno scoperto che le urla venivano dal piano superiore di una delle vecchie case che si trovano lungo la via. Nel frattempo è arrivata anche l'ambulanza del 118. Le urla erano di un anziano caduto con il deambulatore in condizioni critiche che è stato così salvato appena in tempo. Cambiamo decisamente argomento. Andiamo ad Omenia, dove lo sapete, impazzano i festeggiamenti in onore di San Vito. Il cartellone è davvero ricco, il tutto in attesa del grandioso spettacolo pirotecnico in programma domenica sera. Ma per raccontarci come sta andando e soprattutto per conoscere gli appuntamenti delle prossime ore, la linea va a Omenia. Daniele Piovera e i suoi ospiti. E dunque, grazie della linea, prosegue all'insegna del grande successo la festa di San Vito. Presidente, cosa ci dobbiamo attendere questa sera? Beh, questa sera i Los Locos, quindi si ballano musiche latino-americane. Aspetta, aspetta. Inizia a farmi la macarena, se te la ricordi. No, io non sono intonato e quindi direi di venite a Omenia, venite a sentire i Los Locos e vi diverterete anche questa sera. Ma questa sera c'è un'altra novità e un'altra sorpresa, perché è la Cittadella del Gusto, non solo serata all'insegna del Gorgonzola Palzola, ma con Mabibbia dei Legnanesi. Quindi direi una doppia serata, oltre a tutti gli altri eventi che ci sono ai giardini, che ci sono il Banco di Beneficenza, che è bene ricordarlo, San Vito e Vinci, che noi ci auguriamo che tutti coloro che vengono a Omenia tentano la fortuna, ma la Cittadella del Gusto, Gorgonzola e Mabibbia dei Legnanesi, oltre ai Los Locos in Piazza Salera. Insomma, dopo aver gustato le prelibiatezze a Gorgonzola, ci si può divertire ballando la macarena o muove la colita. Tommy, ieri hai fatto anche il DJ, ok? Sì, ieri sera era previsto, perché si era inginocchiato il nostro presidente a questa esibizione, non ho potuto dire di no, non ho potuto dire no. Stasera con il sole, però, è la classica serata caliente del latinoamericano, quindi questa sera si ballerà sicuramente. E domani? Domani ritorniamo invece sul sole, su un certo tipo di musica disco, pop, quindi con il Soul System e Deborah Jurado, che sono una binata che in questa estate italiana stanno andando alla grande nelle piazze italiane. Insomma, aspettiamo i nostri telespettatori questa sera e domani sera alla Festa di San Vito. Grazie Daniele. Donare per crescere in collaborazione con Fondazione Comunitaria VCO. siamo alla presentazione dell'ultimo progetto emblematico finanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito degli emblematici 2018 e illustrato nelle scorse settimane al Teatro Galletti a Domodossola. riguarda l'ampliamento e la rivitalizzazione della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore. Impara l'arte e non metterla da parte, progetto finanziato da Fondazione Cariplo a Santa Maria Maggiore. Il progetto è un progetto che tende a valorizzare la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini. È una scuola professionale, è la prima scuola professionale d'Italia, quindi la più antica in assoluto. Abbiamo pensato di valorizzare questa struttura che oggi è una delle tante strutture, ma immaginatevi quando è nata nel 1879 una piccola chicca in un piccolo paese di montagna nella quale si parlava di arte, si insegnava l'arte, quindi un qualche cosa di veramente futuristico. Questo progetto che mira dapprima a un ampliamento della struttura stessa, quindi con una vera e propria ristrutturazione, diciamo, con la creazione di nuove sale multimediali, una sede importante per la Scuola del Legno, e dopodiché un progetto che coinvolge invece le realtà museali del territorio, ma non solo perché oltre alle strutture della Valle Vigezzo legate soprattutto di Santa Maria e quindi a Casa del Profumo, il Museo dello Spazzacamino, il Centro Culturale, in questo progetto abbiamo coinvolto anche Casa dei Rodis con la bellissima collezione Pocho che ovviamente non può non essere collegata con la pittura vigezzina. Quindi mettere in rete queste strutture, creare un modo diverso di portarsi sul territorio, il coinvolgere gli utenti rendendo la scuola più facile, più familiare, un modo più immediato per entrare in un mondo di cultura, che è sempre un po' difficile. Si entra sempre in punta di piedi, vorremmo invece renderla più accessibile, più facile, creare dei corsi, creare delle app apposta per fare le visite di queste strutture e creare appunto la collaborazione con la collezione Pocho che sicuramente sarà una cosa importantissima, peraltro già iniziata e che continueremo a portare avanti. Qual è il valore di questo progetto per la comunità di Santa Maria Maggiore per la valle? Certamente riappropriarsi della loro storia, della propria storia, una storia di emigrazione, ma una storia importante perché i vigezzini sono stati davvero un popolo particolare. Qual è il quadro economico del progetto? Sono circa 600.000 euro, il Comune di Santa Maria Maggiore ha una sua partecipazione che viene data per la Scuola di Belle Arti di 120.000 euro e con i 250.000 non riusciamo ancora a completare l'intervento, ma ce la metteremo tutta quando abbiamo un obiettivo cerchiamo di raggiungerlo e voglio aggiungere anche una cosa, queste realtà museali che noi abbiamo già creato e quest'ultima noi vogliamo che si autosostengano. Lo spaziacammino, la Chiesa del Profumo si autosostengono, non è una cosa da poco. Creare musei sembra una cosa polverosa, vecchia. Perché ancora parlare di musei? Sono musei insoliti innanzitutto, sono musei frequentati e noi investiamo sull'idea di un autosostentamento della struttura. Stresa Festival, ieri sera il concerto al Palazzo dei Congressi dedicato a Mozart, Haydn e Bach. Stasera appuntamento nel Salone degli Arazzi a Palazzo Borromeo all'Isola Bella. Domani musica e danza al Teatro Maggiore di Verbagna con Roberto Prosseda e la compagnia Simona Bucci. La violinista francese Francesca Dego, affermata artista presente sui palcoscenici internazionali più prestigiosi e l'orchestra della Toscana diretta da Daniele Rustioni ieri sera al Palazzo dei Congressi per lo Stresa Festival. Da Londra a Salisburgo passando per l'Ipsia il titolo del concerto che ha proposto due suite barocche, un concerto per violino e una sinfonia. Protagonisti Bach, Mozart e Haydn. Bach è quello a cavallo tra gli anni 10 e 20 del Settecento quando sperimentò la vita di corte, composizioni festose e fastose ma tutt'altro che di maniera. Il musicista tedesco vi profuse il suo genio sperimentatore. Proposto al pubblico stresiano l'ultimo dei cinque concerti per violino di Mozart tutti composti nel 1775 a Salisburgo dal 19enne data 20 dicembre rappresenta il vertice di questa breve ma intensa parabola creativa. Haydn fu il padre della sinfonia e canonizzò le forme classiche ma proprio nel genere principe per orchestra continuò fino all'ultimo a innovare e sperimentare nuove soluzioni. Lo fa anche nell'ultima delle sue 104 sinfonie presentata nel 1795 al King's Theatre di Londra una serata straordinaria che gli fruttò 4.000 fiorini il doppio del patrimonio che aveva prima di sbarcare oltre manica. Stasera alle 20.30 nel Salone degli Arazzi di Palazzo Borromeo all'Isola Bella Stresa Festival propone l'arte della fuga di Bach con Ottavio D'Antone e Accademia Bizantina. Venerdì alle 20.30 al Teatro Maggiore di Verbagna una prima assoluta commissionata dal festival con il pianista Roberto Prosseda e la compagnia Simona Bucci che proporranno uno spettacolo di musica e danza su selezione di preludi e fughe di Shostakovich. Sette danzatori vivranno, respireranno e renderanno la musica suonata dal vivo da Prosseda una presenza fisica, materica ed evocativa. Simona Bucci è coordinatrice dell'Accademia Isola Danza della Biennale di Venezia. Tutto pronto ad Arona per accogliere quanti nel fine settimana vorranno cimentarsi nella classica traversata Angera Arona. è uno degli appuntamenti più attesi di fine stagione. Il primo start è in programma per le 10.30 di domenica mattina e particolare nel servizio di Franco Filippetto. Torna è una settimana, solo chiuse le iscrizioni all'edizione 2019 della traversata Angera Arona di nuoto, sezione albolistica e programma domenica 1 settembre ad Arona. Lo ha reso noto la Proloco che ha sottolineato come sia stato raggiunto e aumentato il numero dei partecipanti viste le richieste. La traversata, giunta alla sua 26esima edizione, si suddivide come noto in due la classica Angera Arona di 1200 metri aperta a tutti sino ad un massimo di 850 partecipanti e quella doppia agonistica Angera Arona e ritorno di 2400 metri. Confermata anche la piccola gara di nuoto dedicata ai bambini che con un tutor compieranno un percorso di 400 metri nelle acque di piazza del popolo. L'iscrizione è possibile solo la mattina stessa, però come detto l'iscrizione dei ragazzi ovviamente. Arona è inoltre stata scelta come sede della unica tappa del campionato nazionale di nuoto Mezzofondo in Acquilibrio 2019 dell'Associazione Veterani dello Sport ed è anche stata confermata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano come sede della quinta tappa del campionato nazionale paralimpico di Mezzofondo. Una quindicina le associazioni di volontariato che affiancano la Proloco nell'organizzazione alle quali si aggiungono Guardia di Finanza, Carabinieri, Guardia Costiera e Marina. Il programma prevede le 10.30 alla competitiva sui 2400 metri Arona-Angera-Arona alle 11.30 invece la classica Angera-Arona con partenza dal Lido di Angera e a seguire la nuotatina per un'otantina di bimbi. Buo e gadget per tutti gli iscritti. In barco al pontile della navigazione Lago Maggiore ai partecipanti è assicurato un rinfresco rifocillante in Piazza del Popolo, quartier generale della manifestazione. E ora siamo allo sport. In apertura il calcio, il Gozzano pur avendo ottenuto l'agibilità e la documentazione necessaria per poter disputare la prima gara di campionato al Dalbertas non ha ottenuto il benestare da parte della federazione dovendo organizzare l'ordine pubblico per la partita contro il Como spiegano dalla società domenica 1 settembre e siamo costretti a giocare ancora presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli. E ora invece parliamo di motori. Cresce l'attesa fra gli appassionati del genere per il round 4 del campionato italiano Rally Cross AC Sport. Si terrà il prossimo fine settimana in Austria. È grande l'attesa per il quarto round del campionato italiano Rally Cross in programma il prossimo weekend a Waukring Melch in capoluogo della bassa Austria famoso per la sua Abbazia Benedettina uno dei siti monastici più famosi al mondo. Non sarà però la tipica atmosfera di raccoglimento a essere protagonista ma il rombo delle 123 vetture che si daranno battaglia nelle diverse categorie. Il programma prevede sabato alle 14 la Q1 domenica alle 12 la Q2 mentre la Q3 si terrà alle 10 alle 13.30 semifinali e a seguire le finali di tutte le varie categorie. Tra le supercar presenti i due principali protagonisti del campionato vale a dire i leader Gigi Galli e Franco Mollo saranno al bianche il forte Alois Oller oltre 32 titoli tra internazionali e nazionali Mattias Schoenckferger e Tristian Ecker tra le Super 1.6 la famiglia Valazza con Marco e Matteo dovrà vedersela con una nutrita pattuglia di piloti austriaci e ciechi capitanati dal padrone di casa Lucas Dierbenberg già protagonista anche a Maggiora negli anni scorsi e dall'attuale leader del campionato austriaco Erwin Fristel tra le kart cross Ben 21 i piloti in gara presenti i principali protagonisti della categoria dal leader Marcello Gallo a Michael Giacomotti da Simone Firenze al campione italiano in carica Gabriele Zopetti ci sarà grande battaglia nelle super touring con sfide anche interessanti sotto il profilo tecnico diesel contro benzina trazione posteriore contro trazione anteriore da segnalare tra le altre la presenza femminile di Brigitte Schmalz e quella di Felix Wurz figlio dell'ex pilota di Formula 1 Si avvicina la data in cui si disputerà l'Orta Lake Challenge 2019 un evento che richiama ogni anno in riva al Lago d'Orta molti sportivi e semplici appassionati in questi giorni sono state rese note le date per la prima volta l'evento si terrà ad ottobre Si avvicina la data dell'Orta Lake Challenge 2019 che per la prima volta si disputerà ad ottobre l'evento organizzato come sempre dalla Canottieri Lago d'Orta dal 2006 inizialmente con il da solo Italian Scaling Challenge a memoria d'Orangelo Villa cui si è giunto da tre anni l'Orta Lake 8 Challenge si sposta infatti dalle brume dell'inverno ai colori scintillanti dell'autunno quando sul Lago d'Orta lo specchio d'acqua in cui l'evento si tiene le temperature sono ancora dolci il weekend indicato è quello del 5-6 ottobre con il classico antipasto del meeting scolastico di Remo Ergometro che sarà venerdì 4 ottobre ad Orta San Giulio non cambierà invece la formula che si è evoluta negli anni e che fa perno sul classico percorso da 6 chilometri che parte dalla regione Baniera arriva fino a Pettenasco circunnaviga l'isola di San Giulio per poi tornare in regione Baniera la quarta edizione dell'Eight Challenge Trofeo Remo Rosso gara riservato agli otto che si misureranno in una competizione a cronometro con partenza ogni 30 secondi si disputerà il sabato lo scorso marzo a vincere fu il comitato piemontese davanti al comitato Lombardo e dai campioni la partenza dalla gara è fissata alle ore 10 con atleti che arriveranno anche dalla Germania domenica in invece il classico Memorial Don Angelo Villa giunto alla 14esima edizione caratterizzato come sempre dalla spettacolare Massa Start con oltre 100 barche alla partenza simultanea nel 2018 a trionfare furono i tedeschi Julian Schneider e Vera Spanke il programma prevede alle 10 le gare sulla distanza di 1000 metri riservate alle categorie giovanili mentre alle 12 partirà il Memorial vero e proprio sui 6 km le iscrizioni sono aperte dal prossimo primo settembre cambiano le quote dunque per chi vuole iscriversi ci sono ancora poche ore per farlo ad una tariffa agevolata io vi ricordo il nostro sito internet www.vicioazzurratv.it per il momento è tutto grazie per averci seguiti arrivederci alle prossime edizioni